Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo. Questo è anche il primo video che registro con Streamlabs, con la doppia camera, anziché con la mia solita fotocamera, diciamo. Chiamiamola così, quindi perdonate se la qualità è leggermente diversa. Comunque benvenuti in un ennesimo video di unboxing, quindi non toys and unboxing, perché non starò per scartare un giocattolo, ma qualcos'altro. Se mi seguite su YouTube saprete già che qualche mese fa ho fatto una live chiamata Dylan Dog e la musica, in cui ho avuto il piacere di incontrare il signor Miguel Velázquez, che è un artista, un musicista, che tra le altre cose ha fatto un album, ha composto un album dedicato all'indagatore dell'incubo al secolo Dylan Dog. L'album si chiama Craven Road, per gli appassionati capiranno subito il riferimento all'indirizzo di casa del nostro indagatore dell'incubo. L'album contiene ben sette tracce, quindi Craven Road sette tracce, e contiene delle tracce appunto fantastiche, squisite. Si parte con una canzone dal punto di vista di Graucio, quella tra le più ritmate, per poi andare nei meandri dei vari momenti di vita che ha subito Dylan Dog o che potrebbe subire Dylan Dog nella sua vita. Adesso facciamo l'unboxing, cambio un attimo la cam così vedete anche voi le mie sante manine. Io intanto ringrazio Miguel Velasquez perché ho chiaramente strappato il mio indirizzo di posta per non farvi vedere. Però c'è comunque, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, oltre alla spedizione c'è comunque un fantastico per Fabio che, non so, l'ho sentito più vicino. Allora, facciamo subito l'unboxing e andiamo a vedere. Poi parlerò del CD in maniera più dettagliata, mano a mano, che lo scorro con voi. Eccolo qui, eccolo qui. Questa è la foto che ho anche usato per taggarlo nella live. Io credo ancora sia tuttora la sua immagine profilo di Instagram, tra l'altro riflette la seconda webcam. Apriamo. Eccolo qui, dedica ragazzi, con dedica, che figata. A Fabio, no ma mi ammazzo, attento quando cerchi nel buio. Velasquez. Ah, grandissimo, grandissimo. Io in live ho detto che non lo volevo spedito, volevo incontrarlo di persona, volevo che me lo desse a mano. Però, visto che le fiere stanno un po' faticando a ripartire, ho detto, no dai, non ce la faccio più. Specie alla luce del fatto che Kuro ha flexato il suo, il suo album, speditogli da Velasquez. Allora ho detto, no, no, devo averlo anch'io, devo averlo anch'io. E allora me lo sono fatto spedire. Allora, andiamo a vedere un attimino, vabbè, questo è il CD ovviamente, sul retro ovviamente, un CD. Uh, guardate che figo dietro. C'è una sorta di, sembra come fatto con un pastello rosso, come se qualcuno avesse grattato il nero e sotto ci fosse il rosso, o peggio ancora, ci fosse il sangue sotto, no, dato che siamo a tema di Dylan Dogui. Vi faccio vedere i titoli. Allora, Velasquez, Craven Road, la prima traccia... Ah, aspettate, ve la zoom un attimino, ecco. Scusate, il riflesso. La prima traccia è Groucho Groove, Paranormal Eve, la terza traccia è Roma, sì, scusate, Londra Cremisi, la quarta è Tutto Scompare, la quinta è Dell'Amore, la sesta è Il Circo dei Freak, e la settima, Elogio alla morte. Sono tutte tracce molto diverse tra loro, i sound sono davvero variegati, comunque tutto, diciamo, incorniciato dalla voce di Velasquez, che ha delle rime sempre molto taglienti. Nel frattempo che io parlavo, ho preso la copertina e la apro. Ecco qua. Ecco qui, qui ci sono, diciamo, tutti i dettagli sulle tracce, chi ha partecipato oltre a Velasquez, chi le ha composte, e poi qua, nella seconda pagina, ci sono i ringraziamenti, che francamente non sto a dirvi nel dettaglio, compratevi il cd, ma non perché voglio fare la marchetta, ma perché sono davvero tantissime, e poi è una cosa molto personale, e quindi non voglio leggerla e depersonalizzarla. Credo che sia giusto anche che uno la legga nella sua intimità e trovi l'intimità dell'artista in questa dedica, in questo ringraziamento. Allora, che dire, io mo' me lo ascolto, comunque non mancherò di mettere qua in descrizione anche i suoi link, i link di Velasquez, in modo che possiate conoscere il suo canale YouTube, il suo canale Spotify, dove potete ascoltare tutte le sue canzoni, tra cui questo album, e anche, eventualmente, se trovo il link per acquistare questo cd, ve lo metto, altrimenti potete contattare il signor Velasquez, che eventualmente vi mettete d'accordo con lui. Grazie per avermi seguito fino a qui, ma questo video ha anche una pubblicità che non è appunto a questo disco, ma è a una mia live dei prossimi giorni a cui tengo particolarmente. Come ho detto prima, io ho fatto una live qualche mese fa di Landog e la musica, successivamente ho fatto D Landog e l'arte, di cui ringrazio Beatrice Paris, che è stata fantastica nello spiegarci tutti i riferimenti artistici che D Landog ha citato, e Dulcis in Fundo, Dulcis in Fundo, la prossima live, sarà, non sarà allegrissima, sarà D Landog e la malattia, quindi coinvolgeremo Mater Morbi, coinvolgeremo un fumetto di D Landog un po' meno triste di Mater Morbi, ma che comunque parla di malattia, un fumetto a cui io sono legato molto, che è D Landog, la lettera bianca, che è stato uno dei miei primi video su D Landog che ho fatto, ci saranno sempre Luca DJ, ci sarà Kuro, ci saranno ospiti delle psicologhe che ci appunto aiuteranno a capire, aiuteranno a entrare in questo mondo un po' particolare che è D Landog e la malattia. Subito dopo, il giorno dopo, sul canale Twitch di Mr. Ghouli, che ultimamente anche lui mensilmente, o a cadenza regolare, comunque sta facendo delle live che toccano dei temi caldi, abbiamo parlato di catcalling, abbiamo parlato di carceri, la prossima live che sarà lunedì 13, quindi il giorno dopo la mia live, si parlerà anche qui di D Landog, Mater Morbi, ci concentreremo sull'eutanasia, cosa di cui invece io non vorrà parlare nella mia live di domenica, perché voglio stare un po' più generico sulla malattia e un po' più dedicato alla lettera bianca che parla principalmente di malattia mentale, di demenza e di cure, di assistenza, di stare vicino agli ammalati. Grazie per avermi seguito fino a qui, come sempre con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e vi dico arrivederci, al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.